Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 11 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Inizio settimana magico appoggiato dal trigono lunare. Meglio di così non potreste iniziare la settimana, con la luna in trigono al vostro segno, garante di slanci e belle novità. I campi privilegiati per la sorpresa restano l'amore, grazie a un partner affettuoso e imprevedibile e il rapporto coi figli, molto indipendenti, merito di una linea educativa disinvolta. Ma le vostre fortune non finiscono qui, bene anche gli studi, i viaggi e le puntate al gioco, dove le possibilità di vincita si moltiplicano, nonostante l'opposizione di Venere e Giove conceda più fortuna a chi vi sta accanto che a voi in persona. Un chiarimento che si annuncia positivo. Una confessione, un rendere noto, una dichiarazione. Qualcosa verrà presto annunciato e formalizzato. I single potrebbero ricevere qualche dichiarazione sulla quale però dovranno meditare abbondantemente. Confessioni di piccole bugie, misteri svelati. Oggi potreste realizzare un piccolo desiderio trovando le risorse giuste per farlo, anche la serata si prospetta serena e con qualche piccola novità. Mantieni di più la calma e non innervosirti con alcune persone, ne va della tua tranquillità. C'è nervosismo per l'amore, ma, d'altra parte, non sempre può filare tutto liscio. Oggi alcuni incontreranno persone che non vedevano da tempo, saranno autentiche sorprese. In tutti i sensi. Vita reale e vita virtuale a volte non camminano parallelamente, forse è il caso, oggi che Giove e Venere ben si dispongono a donarvi nuove energie, a staccare un poco dalla vita virtuale, dai social e dedicarvi più a coltivare i rapporti nel reale. Possibilità di migliorare la situazione finanziaria. Datti da fare. Il lavoro ti darà soddisfazioni. Sarai più ambizioso. Guadagni extra. Troppi ordini e troppe regole possono generare confusione non potendo essere ben applicate generano caos. Oggi siate equilibrati e cercate di vedere in tutto la giusta via di mezzo senza eccessi. Negli ultimi tempi la vostra vita è andata su e giù come sulle montagne rosse, poche certezze e tanti dubbi. Oggi alcuno potrebbero ricevere notizie inattese, soprattutto in campo sentimentale, in grado di stabilizzare la vostra vita. Siate riservati e non preoccupatevi di qualche pettegolezzo, quello che conta è non confidare a nessuno i vostri segreti. Una telefonata che vi sta a cuore potrebbe anche ritardare di molto, non fatevi prendere dal Nasia. Nessuno vi toglierà ciò che vi appartiene. Un gruppo di pianeti, Sole, Venere e Mercurio, abita in un segno per voi contrario, almeno tecnicamente sulla ruota dello Zodiaco, i gemelli, e vi impone di essere più diplomatici e meno irruenti di quanto di solito dimostrate di essere. La luna, invece è in un segno per voi molto congeniale, il leone e vi fa gioco nelle relazioni sociali, nei rapporti familiari e amichevoli che si riempiono di stimoli e di interessi comuni da condividere. Un viaggio breve culturale legato a una meta artistica e in procinto di essere organizzato. La settimana si apre in bellezza, con tutto il calore della luna in leone, focosa quanto voi, e l'entusiasmo, l'apertura, la socievolezza di gioven gemelli, generosissimo anche all'opposizione. Le vostre idee oggi andranno per la maggiore, a contatto col pubblico farete un figurone. Applausi anche per la vostra competenza linguistica e la finezza psicologica con la quale sapete trattare gli altri, avanzando le vostre idee ma senza imporle dall'alto. Amore ed Eros. Coppia felice da quando avete preso l'abitudine di scambiarvi impressioni e consigli, è un flusso di energia mentale che vi arricchisce interiormente, stimolandovi a dare il meglio di voi stessi. Filosofia di vita improntata all'ottimismo e al pensiero positivo, perché vedere la metà piena della coppa se si può guardare alla metà piena. Chi di voi ha un rapporto fisso lo vede vivacizzato da un'iniezione di buon umore, di sensualità, di forza comunicativa che arrivano dal partner o dalla partner. Sia che siate complici, amanti, compagni di vita, avrete al vostro fianco una persona tenera ed edita ai vostri desideri. Il bellissimo apporto che vi arriva dalla fortunata luna in leone, aumenta il raggio delle emozioni e dei sentimenti, specie se siete nati nella prima decade. Lavoro e denaro Per affare girate come trottole e ogni volta che visitate un luogo diverso avvertite un'ondata di entusiasmo, il mondo non finisce mai di stupirvi. Poliglotti entusiasti, ma naturalmente non potete padroneggiare tutti gli idiomi del mondo, utilissimo perciò un corso intensivo per approcciare un'altra lingua, in vista di una vacanza importante o di un progetto di trasferimento, meglio ci si spiega con gli altri e meglio si vive. Un progetto che vi stimola molto vi viene presentato oggi in ufficio. Specie se appartenete all'ultima decade, siete nella condizione giusta per potervi addossare una nuova impresa. Plutone in angolo moderatamente positivo dal segno dell'acquario vi dona la sicurezza necessaria per agire e per mettervi in gioco senza alcun timore, in specie al modo se siete nati della prima decade. Benessere. Informissima grazie alle tecniche meditative orientali e alla medicina indiana o cinese. Cittadini del mondo, dal mondo mutuate anche i sistemi terapeutici. Attenti a non tradire la vostra tradizione, mangiate verdura e frutta che crescono alla vostra latitudine, stesso consiglio per le piante medicinali, ogni cultura ha le sue logiche e i suoi metodi di adattamento all'ambiente. Denaro. Potete finalmente pensare di compiere un acquisto cui tennevati da tanto tempo. La luna e il leone vi dona gratificazioni economiche. Per lei, inutile fare programmi che saresto le prime a non rispettare, la linea di condotta e la spontaneità, annusate la vita e seguitela. Per lui, divertenti colpi di scena iniziano la settimana lavorativa con una griffe originale, davvero insolita in un contesto sempre così grigio e uguale. Obbligati a mettervi in gioco e testare le vostre capacità, stupirete i vostri capi ma soprattutto voi stessi. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 10. Beneessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.